Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ITV City. In apertura la campania che torna in zona gialla dopo più di un mese di massime restrizioni, preoccupazioni per i giovani e gli assembramenti. Dolore invece a Torre Annunziata ai funerali di Maurizio Cerrato, padre buono che dona la vita per il cardinale Mimo Battaglia. Passiamo ora alla cronaca con l'arresto di 5 persone per l'esecuzione e l'omicidio di due cittadini di origine nigeriana. Invece la Guardia di Finanza ha svolto una maxi-operazione fra Napoli e Palermo per sequestrare sigarette di contrabbando e oltre un milione e mezzo di euro. In conclusione lo sport con la Turris che festeggia la salvezza dopo la vittoria col Bari per 3-0. Questo ed altro nei nostri servizi. Campania torna finalmente in zona gialla dopo più di un mese di massime restrizioni. Riaprono parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti che potranno accogliere i clienti solo con tavoli all'aperto, cinema e teatri. L'apertura, prevista dal governo per il 78% degli italiani, però potrebbe portare ad un naturale aumento dei contagi, soprattutto se l'allentamento delle misure non è accompagnato da controlli costanti. A ricordarlo anche il presidente Vincenzo De Luca, che ospite a che tempo che fa, ha sottolineato «Ritengo che siamo entrati nella seconda fase del Covid, a differenza di un anno fa ci sono i vaccini e poi il paese estremato non regge più». Le prime reazioni non sono state delle migliori. A Milano, Roma e Napoli, ieri in occasione della Festa della Liberazione e complice la giornata di sole, tante le persone ad affollare piazze lungomari, nonostante tutta Italia fosse ancora in zona arancione o rossa. Preoccupano le immagini di tantissimi giovani che hanno colto subito l'opportunità di godersi un aperitivo con amici, ovviamente privi di mascherine e dimenticando il distanziamento. Certamente uno sfogo prevedibile, dati mesi di divieti, ma il ripetersi di questi fenomeni potrebbe vanificare tutto il lavoro fatto per la lotta al virus, anche perché si tratta di categorie e fasce di età che non hanno ancora ricevuto il vaccino. L'ingresso della Campania in zona gialla non ha portato cambiamenti nella vita scolastica degli studenti e delle scuole superiori di Napoli. Sebbene il decreto previde in zona gialla che la didattica in presenza debba essere tra il 70% e il 100% degli studenti, in città sono molti gli istituti che hanno deciso di mantenere la didattica in presenza solo al 50%, avvalendosi di tale possibilità fornita dall'ultima ordinanza in materia di scuola della regione Campania. La preoccupazione è che, come ottobre, i contagi portino alla chiusura a singhiozzo di classi o di interi plessi. Tuttavia, data la libertà concessa, appare paradossale che i ragazzi non tornino fra i banchi per paura del virus, ma possano ritrovarsi al bar nel pomeriggio. Alcuni dubbi restano sul coprifuoco, rimasto fissato dalle 22 alle 5 del mattino. Data l'apertura di ristoranti, bar e teatri, sembra assurdo che queste attività possano funzionare, escludendo gli orari serali. A riguardo, il commissario straordinario Figliuolo ha annunciato che potrebbero esserci modifiche solo dopo metà maggio. Per molti ristoratori, questo controsenso sembra un'ennesima falsa partenza. Maurizio il papà bello, che dona la vita, che offre la vita. Don Mimo Battaglia prende spunto dalla lettura del Vangelo sul buon pastore, che, spiega nel testo originario, è il pastore bello, per parlare di Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni ucciso a Torre Annunziata, in un'aggressione subita dopo aver difeso la figlia, alla quale poco prima era stata bucata una ruota della sua auto, solo perché aveva parcheggiato in un posto della pubblica strada, occupato da una sedia. L'arcivescovo metropolita di Napoli ha ufficiato ieri pomeriggio le esegue di Cerrato, nella chiesa dello Spirito Santo, di Corso Vittorio Emanuele III. Non cederemo alle intimidazioni di quanti credono di seminare paura con la violenza, ma non possiamo essere lasciati soli. Né la preoccupazione, né la paura, né le minacce possono zittire la nostra voce, o fermare il nostro cammino. Moltare pagine è possibile, se tutti ci sentiremo coinvolti. Don Domenico Battaglia si rivolge alla moglie Tania e alle due figlie di Maurizio. A tutti le ultime parole dell'arcivescovo chiedono scatto di dignità. Lo dobbiamo a Maurizio, lo dobbiamo alla vita, lo dobbiamo al Cristo risurto. È la dignità a chiedercelo. Nella chiesa dello Spirito Santo le lacrime di tanti che hanno salutato con un lungo applauso l'uscita del feretro dalla chiesa. Cercheremo, si legge nel manifesto funebre della moglie e delle figlie, in ogni sguardo la luce dei tuoi occhi, in ogni sorriso la gioia del tuo cuore, in ogni gesto il tuo essere. Dacci la forza di continuare a vivere senza te e accompagna il nostro cammino sempre. Mostraci i tuoi occhi quando ci sentiremo perse. Ci mancherai sempre, grande eroe, ti amiamo. Sabato pomeriggio, grande partecipazione all'iniziativa promossa dalla locale sezione dell'Associazione Libera per commemorare l'uomo, posta dall'amministrazione comunale una corona di fiori. Nella mattinata odierna i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del Reparto Territoriale di Mondragon hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli, all'esito di articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di cinque soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di avvantaggiare, consolidando nel prestigio del predominio sul territorio napoletano, del gruppo camorristico Sorianiello. Le indagini hanno consentito di ricostruire in tempi rapidi la dinamica, il movente ed i responsabili del feroce agguato in danno ai due cittadini nigeriani avvenuto a Castelvolturno il 10 settembre del 2020. In particolare si è accertato che l'agguato omicida era mutato nel gruppo criminale dalla 99, articolazione del Cranso Sorianiello, a seguito della sottrazione di una busta contenente sostanza stupefacente, marijuana e cocaina, per un valore di mercato di circa 40.000 euro, destinata a rifornire la piazza di spaccio della 99, così chiamata per chesita nell'omonimo complesso abitativo del rione Traiano. Il gesto per vendicarsi del furto subito e per assicurarsi una posizione di supremazia sul territorio, in quanto la punizione dei responsabili avrebbe conseguito la finalità di impedire il ripetersi di episodi analoghi. La spedizione punitiva è stata attuata con tre diversi viaggi, andata e ritorno da rione Traiano a Castelvolturno, località da cui provenivano i due nigeriani. Il primo viaggio per l'ustrativo della zona ha dato esito negativo perché i due nigeriani non erano stati rintracciati. Il secondo viaggio, a seguito del quale i due furono rinvenuti, si era concluso con l'apparente intesa da parte degli indagati di corrispondere ai due nigeriani la somma di 2.000 euro dagli stessi richiesta per la restituzione dello stupefacente. Il terzo ed ultimo viaggio è culminato nell'omicidio, dopo che si erano rifiutati di consegnare lo stupefacente se prima non avessero ricevuto la somma di denaro richiesta. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito, con la collaborazione dei reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, 15 misure cautelari personali, di cui tre in carcere, sette agli arresti domiciliari, cinque con l'obbligo giornaliero di presentazione all'APG per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e traffico di sostanze stupefacenti. Contestualmente i finanziari hanno proceduto a sequestro di disponibilità finanziaria, un fabbricato, due magazzini, un appartamento, tre autovetture e tre motoveicoli per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro. A Napoli si è proceduto ad eseguire la misura cautelare in carcere nei confronti di AC classe 73, quale capo e promotore dell'organizzazione con compiti di procacciamento. Agli arresti domiciliari i sodali addetti alle spedizioni. Sono altresi indagate altre 13 persone per un totale di 28 soggetti coinvolti, di questi ben 19 risultano precettori di reddito di cittadinanza. Nello specifico le sigarette sarebbero state inviate a Palermo utilizzando una ditta di spedizione ignara del traffico illecito, indicando quali mittenti e destinatari nomi e indirizzi di pura fantasia e comunicavano i relativi numeri di spedizione ad un uomo di fiducia. Quest'ultimo autista operante per conto della ditta di spedizione, oggi agli arresti domiciliari, provvedeva a ritirare e consegnare i pacchi direttamente presso il magazzino di stoccaggio. In un'occasione è stato sequestrato anche un chilo di hashish, constatando quindi che l'attività illecita del sodalizio criminale si sarebbe estesa anche al traffico di stupefacenti, evidentemente anche in ragione delle difficoltà della vendita al minuto su strada delle sigarette nel periodo epidemiologico. Ehi, chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Non preoccupare. Tanti c'è da dire che stavo parlando? Allora, fino a intorno sono 65. No, come vuoi dire? Non avevo 75 qui. 60? No, non ti vuoi. E quanto vuoi? Eh, posso parli a stanzare vinte, 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 vinte ma è volo. Ma è volo? E invece di in Gino. Per domani mattina. Domani mattina che cosa vanno? Invese? Vallebbe. Ma vedi che stai mettendo tempo, ti vado a finire, perché ti stanno necchendo, stai dicendo a necchendo i stessi venti stessi di stasina. Ma non vanno, dopo che... No, fino a andare, minchia. Non ho proprio. Eh, chi sta proprio? Ma perché c'è un biglietto amicoso di staggiano vinte? A così passo la cucchia sulle casse tipo questo, va bene? Missione compiuta per la Turris che supera il Bari a Liguori con un perentorio 3-0 e centra la salvezza matematica con due turni di anticipo sulla fine della stagione regolare. Infatti i Coralini, grazie anche alla sconfitta della Cavesi a Palermo, hanno ormai un margine incolmabile proprio dai metelliani per quel che riguarda la forbice di punti necessari per la rispota dei play-out. Il match vede la Turris approcciare bene la partita e trova il vantaggio al ventesimo con D'Ignazio che sfrutta un perfetto assist di Ferretti e mette il pallone alle spalle di Frattali. I pugliesi provano la reazione ma Antenucci spreca in area. Nel secondo tempo la Turris trova subito il raddoppio e Loreto in mischia a trovare lo spunto vincente mettendo a sicuro il risultato. Il Bari prova ad agire con Cianci e ancora Antenucci ma a Bagnale non corre pericoli. In pieno recupero Alma entra in area con una bella azione personale, trafigge per la terza volta l'estremo difensore dei Galletti e chiude definitivamente i conti sia della partita sia della salvezza corallina. Al triplice fischio è festa grande con società e giocatori che blindano al traguardo fissato a inizio stagione anche se con molte più sofferenze del previsto dopo un ottimo girone di andata e un balbettante girone di ritorno. Adesso gli uomini di Caneo possono chiudere in bellezza la stagione avendo ancora incredibilmente una piccola chance di approdare ai play-off promozione. Infatti i corallini potrebbero con altre due vittorie centrare l'undicesimo posto in classifica, risultare la migliore compagine dei tre ginoli di Serie C e accedere quindi alla post-season che assegna un'ulteriore promozione in Serie B. Il giorno ti lasceremo mai, il giorno ti lasceremo mai, il giorno ti lasceremo mai. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto e vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie per la visione!